Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale i fatti del friuli occidentale in primo piano in apertura al coronavirus perché ci sono importanti novità che potrebbero presto riguardare anche la nostra regione in particolare dove si sta studiando un test salivare per ricercare le positività covid queste e altre informazioni sono state date oggi nel punto stampa dal presidente fedriga e dal suo vice riccardi impedire come è avvenuto questa estate che il contagio arrivi dall'estero è soprattutto la beffa per gli operatori della neve del friuli venezia e giulia il presidente della regione massimiliano fedriga nel punto covid settimanale ha lanciato i temi di discussione con il governo che è fondamentale evitare assembramenti o posti dove appunto questi possono avvenire ma è altrettanto vero che dobbiamo far sì che per esempio per quanto riguarda le località turistiche ci siano misure uguali a livello europeo perché altrimenti avremo una situazione paradossale dove alcuni impianti all'estero tengono aperti cittadini italiani vanno nella località turistica dell'estero e tornano qui e portano il virus quindi noi dovremmo avere un aumento di virus e una chiusura delle attività economiche non mi sembra un'idea brillante per i vaccini si attende il via libera nazionale ma il piano regionale è pronto mentre i dati dei contagi sono positivi al punto da spingere lo stesso fedriga a parlare di ipotetica zona gialla in fvg dal 3 dicembre questo però non va letto come un liberi tutti se diventiamo zona gialla non dobbiamo abbassare le difese ma anzi aumentarle perché occasioni di aggregazione aumenteranno e quindi bisogna stare ancora più attenti a evitare assembramenti o situazioni che possono favorire il contagio sul tema scuola tutti vorremmo la didattica in presenza ha spiegato il governatore ma non ci sono ancora le condizioni infine le buone notizie il metodo trieste con il cortesione è presentato dal dottor confalonieri per la cura della polmonite bilaterale sta andando bene con ottimi risultati ed è usato in tutto il mondo anche dai medici di boris johnson il premier inglese ad haifa e un ets invece sperimenteranno un nuovo farmaco nelle case di riposo per ridurre il rischio di contrarre il virus e a udine si procederà con lo zonoterapia infine i test salivari rapidi se funziona come ci dimostrano i primi dati sarebbe rivoluzionaria intanto che non si perde di affidabilità rimaneremo rimarremo avremo gli stessi dati se non in alcuni casi migliori del classico tampone nasofaringeo con analisi laboratorio rna ma dal secondo luogo che non servirebbero più operatori sanitari per effettuare il prelievo e intanto migliorano i numeri delle positività in friuli venezia giulia oggi sono stati rilevati 575 nuovi contagi l'8,24 per cento sui 6980 tamponi eseguiti contro i 680 casi di ieri crescono però i decessi da covid 19 che si sono attestati oggi a quota 21 contro i 16 di ieri due dei quali nel friuli occidentale a perdere la vita sono stati un uomo di 81 anni di san giorgio della ricche in vella e un uomo di 80 anni di caneva entrambi morti in ospedale scendono intanto a 55 pazienti in cura in terapia intensiva ma salgono a 633 i ricoverati in altri reparti i casi attuali di infezione sono 14.876 206 più di ieri i totalmente guariti sono 14.936 le persone in isolamento 13.827 per quanto riguarda il friuli occidentale l'azienda sanitaria ha registrato la positività di un infermiere e i vigili del fuoco di pordenone sono intervenuti oggi in tribunale per effettuare l'igienizzazione di alcuni ambienti e fare fronte ad alcuni aspetti dell'emergenza covid 19 attivati dal presidente del tribunale i vigili del fuoco dopo preventiva ricognizione e valutazione dello scenario hanno indossato gli doni i dispositivi di protezione individuale del caso e provveduto come d'accordo con lo staff del tribunale ad igienizzare i locali nel rispetto delle specifiche linee guida gli ambienti coinvolti dall'igienizzazione sono stati oltre agli ambienti comuni del personale come servizi igienici e dare ristoro la cancelleria civile l'ufficio del giudice di pace le aule becchelette falcone borsellino e l'aula magna de nicola l'immediato intervento dei vigili del fuoco unitamente alla chiusura pomeridiana ordinaria degli uffici ha garantito sin da domani la prosecuzione delle attività della coinvolta cancelleria civile del tribunale cambiamo argomento l'autopsia sul corpo di aurelia laurenti la donna uccisa mercoledì scorso dal compagno a roveredo in piano sarà eseguita domani pomeriggio intanto illegale dei genitori della vittima ha depositato il ricorso per chiedere la tutela dei figli della coppia è fissata per domani alle 14 l'autopsia del corpo di aurelia laurenti la 32enne di roveredo in piano originaria di sanquirino uccisa la sera di mercoledì 25 novembre accoltellate dal compagno il 33enne giuseppe forciniti di rossano in provincia di cosenza a eseguirla saranno i medici legali michela frustaci per la procura pordenonese e giovanni del ben per la famiglia della vittima per la difesa l'esame autoptico sarà eseguito dai medici padovani sindi visentin e giovanni ciraso quest'ultimo medico legale psichiatra forense di lunga esperienza in passato ha periziato anche gianfranco stevanin il serial killer di montagnana in carcere per omicidio di sei donne tra il 1993 e il 1994 la settimana prossima invece ci sarà il conferimento dei dati ottenuti dai device elettronici sequestrati nei giorni scorsi giovedì 3 dicembre infatti saranno analizzati i contenuti di una chiavetta e dei cellulari delle persone coinvolte l'avvocato della difesa ernesto dettoni oggi ha visitato in carcere forciniti il quale sta continuando i colloqui con il sacerdote lo psicologo colloqui questi che per il legale lo stanno aiutando a mettere a fuoco le circostanze dell'omicidio oggi spiega dettoni è stato fatto il tampone per il dna al mio assistito ed è stato perquisito il suo armadietto sul posto di lavoro nell'azienda sanitaria è molto preoccupato continua per i due bambini ed è dispiaciuto per la chiusura da parte della famiglia della vittima nei confronti dei suoi genitori sul fronte della famiglia di aurelia l'avvocato morena cristofori si è attevata per la tutela dei due bambini di 8 e 3 anni che al momento si trovano dalla sorella della nonna materna e della memoria di aurelia la famiglia ha depositato un ricorso affinché i nonni materni ottengano la tutela dei due minori cambiamo argomento gli investimenti milionari che si prospettano nella zona industriale ponte rosso di san vito al tagliamento avvicinano sempre di più la possibilità di avere un distretto del vetro saranno inoltre creati oltre 100 posti di lavoro i tempi sono maturi per un distretto del vetro a san vito al tagliamento città che in zona industriale ponte rosso ospita diverse aziende anche colossi internazionali che si occupano del settore alcune realtà sono pronte a realizzare ampliamenti milionari altre si insedieranno nel san vitese il prossimo anno per questo il sindaco di san vito il comune il maggior azionista del consorzio industriale lancia un appello alla politica regionale l'insediamento di questa nuova attività di recupero riciclo del vetro che sarà una delle poche tra l'altro in italia in europa io credo che questo tenuto conto che accanto a questo nuovo insediamento così qualificato ci sono già altre presenze riguardanti il vetro rafforza quella proposta che noi abbiamo da molto messo in campo e che sicuramente farà passi avanti riferiti al distretto del vetro noi ci auguriamo che come dire entro il primo semestre del prossimo anno questo possa avvenire è chiaro che tutto questo è subordinato anche alle decisioni se così possiamo dire da parte della regione che mi auguro possano venire gli investimenti inoltre si tradurranno anche in nuovi posti di lavoro questo permette anche perché non dobbiamo mai dimenticare di aver presente da una parte gli investimenti la prospettiva il lavoro immediato e futuro dall'altra anche di assorbire delle criticità che ci possono essere che ci sono come per esempio la sirap che chiude perché ha deciso di trasferirsi tutti a breccia è chiaro che quei lavoratori saranno ovviamente sono il nostro pensiero perché possano essere rioccupati in un piano ovviamente industriale che prevede come abbiamo detto questi nuovi insediamenti il lavoro di squadra di tutti i componenti della città è alla base del successo di pordenone questo il pensiero del sindaco alessandro ciriani che ha commentato il primo posto del territorio nella classifica di qualità della vita di italia oggi un lavoro di squadra che premia tutte le componenti della città dalle istituzioni ai singoli cittadini e questo per il sindaco alessandro ciriani il segreto che ha portato pordenone al vertice della classifica delle città per qualità della vita stilata da italia oggi e l'università la sapienza di roma in collaborazione con cattolica assicurazioni ciriani ha parlato attraverso un video girato a casa sua dove in isolamento perché colpito dal coronavirus la sua condizione di salute comunque è in netto miglioramento secondo me questo è frutto di un lavoro di squadra di un sistema che mette insieme le istituzioni tutte pensate alle forze dell'ordine al comune al sistema sociale e poi mette insieme anche però gli operatori economici i nostri imprenditori i cittadini le associazioni sportive quelle culturali cioè tutti soggetti alla comunità che valorizzano gli elementi di forza nel territorio e che consentono di garantire una qualità della vita particolarmente alta quindi il primo ringraziamento va a tutti i soggetti della nostra comunità a tutti gli attori della nostra comunità nonostante il primato per il primo cittadino ci sono ancora margini di miglioramento esistono ancora potenzialità inespresse che ci consentiranno se adeguatamente valorizzate non solo di mantenere questo posto in classifico che è prestigioso ma soprattutto di aumentare la qualità dei servizi a favore della nostra comunità e di adeguarli quelli che saranno anche i cambiamenti che dovremmo affrontare pensate all'invecchiamento della popolazione entrando nel dettaglio la città sul noncello eccelle per ambiente sistema salute reati sicurezza e sicurezza sociale buoni risultati per popolazione istruzioni formazione tempo libero il tallone d'achille infine riguarda il reddito e la ricchezza della città passiamo allo sport il ciclismo si è svolta ieri al palasport di prata l'assemblea elettiva delle società della provincia di pordenone per il quadriennio 2021 2024 della federazione ciclistica italiana che ha rinnovato l'organico provinciale il nuovo presidente raffaele padrone che subentra alla uscente eliana bastianel a eleggere il nuovo numero uno esponente della società ciclistica fontana fredda le 31 società presenti sulle 40 totali accanto a lui eletti consiglieri valentina alessio degli amici della pista massimo mengo motostaffetta sacilese marc favretto giudice del friuli venezia giulia ernesto badin della ciclistica ottavio bottecchia padrone ha accettato l'incarico con entusiasmo ed è già al lavoro in vista delle elezioni del comitato regionale della feder ciclismo c'è anche un pordenonese si tratta di mauro chiarotto dal ciclismo al calcio il 18enne portiere fiulano denis franchi ha firmato il suo primo contratto professionistico con il paris saint germain partito dal prata falchi era nel club parigino nelle giovanili già da un anno a tele friuli parla il suo procuratore sentiamo la favola di denis franchi portiere classe 2002 nato a san vito al tagliamento e volato in francia al paris saint germain dal prata falchi società dilettantistica pordenonese a luglio del 2019 fa un ulteriore passo avanti il talento friulano arrivato a parigi anche grazie alla gente fifa luca zanette all'avvocato lorenzo violo e al suo scopritore alessandro cenedese nelle giovanili del psg si è fatto notare e ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza 2023 penso sia un qualcosa di particolare dettato dal fatto anche che il primo ragazzo minore ad approdare nel club parigino e anche avere dopo appena un anno un rinnovo di contratto penso sia una cosa che decisamente lascia lascia ben sperare per il proseguo della carriera di denis insomma questo sì sarà lui che con i grandi contagià una presenza in coppa di francia il terzo della rosa a difesa dei pali diventando ufficialmente compagno di squadra di mostri sacri come neymar mbappé icardi di maria ma anche degli italiani verrati e king lui la vive sempre con la sua semplicità e la sua umiltà di un ragazzo che sa di avere un'opportunità importante il club parigino allenato da tuchel solo qualche mese fa ha disputato la finale di champions league perdendola contro il buyer monaco denis originario di villotta di chions e la sua famiglia vivono con entusiasmo e piedi per terra la vicenda io ho visto la mamma giovedì appunto perché noi abbiamo concluso quella che era la trattativa giovedì era estremamente emozionata poi a richiamo di del direttore leonardo sera contenta la mamma ha risposto con sono felicissima quindi questo lascia dire tutto per quello che una storia è bella importante va dato atto alla famiglia franchi generale di un grande grazie perché fare scelte di questo tipo decisamente non è semplice e l'intervista completa al procuratore paolo tonus sarà trasmessa questa sera in bianco nero xxl subito dopo il nostro telegiornale l'edizione di pordenone ritorna domani alle 20 e 45 grazie per essere stati con noi buona serata grazie a tutti